Ciao a tutti, come parlare in pubblico in modo efficace e coinvolgente? Allora, questo è importante perché il public speaking aiuta, diciamo, le tecniche di public speaking aiutano ad avere successo, soprattutto in ambito lavorativo, quando si deve comunque interagire e parlare in pubblico. Allora, la cosa fondamentale è che non dobbiamo avere paura di parlare in pubblico. Per non avere paura dobbiamo esercitarci, somministrandoci l'autopenalizzazione. Cosa vuol dire? Io decido deliberatamente di vivermi la paura di parlare in pubblico. Dopo un po' di volte che lo fai, in questo modo ti sgancerai dalla paura di parlare in pubblico. A questo punto dovrai utilizzare le tecniche di public speaking. Allora, intanto la prima cosa da tenere presente è il tono di voce. Non puoi parlare con un tono monotono. A noi diventi una chiavica. Devi utilizzare un tono di voce che per certi momenti è tranquillo, calmo. Ogni tanto fai delle pause, perché la pausa genera tensione, e poi parla a un tono di voce più alto. Quindi varia il tono di voce. Questo è fondamentale per tenere l'audience sempre sveglia, sempre ricettiva, sempre attiva. Altra cosa fondamentale è il linguaggio del corpo, la comunicazione non verbale. Devi mantenere... Devi gesticolare, ma non eccessivamente. E soprattutto, una cosa che devi fare, i gesti devono essere illustratori. Cioè devono accompagnare in qualche modo il discorso. Nel momento in cui sei incisivo devi fare un gesto di incisività. Nel momento in cui sei più tranquillo devi fare un gesto che porta la tranquillità a questo. E il gesto della tranquillità a questo è il gesto dell'incisività. Quando fai un discorso incisivo devi entrare dentro, penetrare. Questo è uno dei modi. Poi devi ripetere le stesse cose utilizzando tutti i canali comunicativi. Perché è importante fare tre passate di vernice. Per i visivi, gli uditivi e i cenestesici. Quindi ripeto ogni tanto, vi è chiaro che è un termine che serve per i visivi. Poi utilizzo il termine vi suona bene, termine per gli uditivi. E poi avete afferrato il concetto, termine per i cenestesici. E ovviamente ogni tanto devi riprendere, diciamo, il discorso parlando, riprendendo, diciamo, termini visivi, termini uditivi e termini cenestesici. In modo tale che tutti possano afferrare bene il concetto, avere una visione chiara di quello che tu stai dicendo e sentirsi risuonare dentro proprio le tue parole in modo che possano comprendere in profondità. Altra cosa da fare molto importante è usare gli esempi, usare le metafore, le parabole. Cristo parlava in parabole. Perché la parabola è un modo semplice di dire le cose in cui tutti si possono identificare. E puoi utilizzare diverse parabole. E puoi utilizzare la metafora del seminatore. Riusci il seminatore a seminare. Nessuno fa il contadine, magari nessuno semina. Però tutti si identificano quando dice che parte dei semi finiscono nei rovi, parte dei semi finiscono nella ghiaia, parte dei semi vengono beccati dagli uccelli, parte dei semi danni i loro frutti. Questa è una metafora per dire che devi imparare a seminare nel terreno giusto, nelle zolle fertili, nella terra grassa. Per fare un esempio, non puoi usare mille metafore, mille parabole. L'importante è che se devi usare una parabola per far passare un messaggio, te la prepari prima. Cioè, se è un abile comunicatore, poi li vengono spontanei. Però, diciamo, agli inizi è meglio essere preparati. Quindi è fondamentale prepararsi, altrimenti difficilmente poi riuscirai a raggiungere l'obiettivo che vuoi raggiungere. Se non ti prepari bene in una situazione, difficilmente poi riesci a improvvisare. All'inizio, perlomeno. All'inizio, quindi, è importante prepararsi bene quello che si vuole dire. Però poi non focalizzarsi. Non è che devi imparare a memoria. Devi sapere quello che devi dire. Qua ci sono anche delle tecniche utili di mnemotecnica, che sono, ad esempio, il metodo dei loci, che serve per memorizzare, per ricordarti una sequenza di cose. Il metodo dei loci è molto semplice. Basta che ti ricordi come è fatta a casa tua, le varie stanze, ti immagini di passare da una stanza all'altra, ancorando semplicemente ad ogni stanza, ad ogni ambiente di casa tua, a una parte del tuo discorso, in modo tale che, quando ripercorrerai mentalmente casa tua, automaticamente verranno fuori le cose che devi dire. E in questo modo non ti dimenticherai, perché è importante non lasciarsi prendere dal panico. E se non ti dimentichi qualcosa, non importa. Se ti dimentichi qualcosa, non importa assolutamente. A me è capitato un sacco di volte. Magari volevo dire delle cose, non mi ricordo, ne dico altre. Non mi fermo. L'importante è perseverare. L'importante è continuare. L'importante è non restare muti, a meno che non vuoi fare tu deliberatamente, per generare tensione. Perché questo può essere anche usato come strategia, per generare tensione. Ecco, queste sono le tecniche fondamentali, principali, che tu puoi usare come public speaking, per poter dare i giusti messaggi, per poter coinvolgere le persone che ti interessano. Insomma, tieni presente anche che nella comunicazione, soprattutto nella comunicazione pubblica, ma nella comunicazione in generale, devi avere un obiettivo, obiettivo, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, mentre tutti i venti possono essere favorevoli per il marinaio che sa dove andare. Quindi, devi avere un obiettivo preciso, sapere esattamente quello che vuoi raggiungere, quello che vuoi ottenere, perché questo è fondamentale. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al canale, perché se ti iscriverai al canale e attiverai la campanella, potrai ricevere le notifiche delle live e quindi partecipare alle live. Se parteciperai alle live, avrai la possibilità di, tanto conoscere persone, perché ci sono tante persone che partecipano alle live, e poi avrai la possibilità di divertirti e di fare delle domande, interagire con me e ricevere delle risposte. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!